eccoci qui ragazzi che sofferenza che sofferenza ci complicamo sempre la vita da soli noi la Roma batte il Cagliari 1 a 0 e riparte in campionato dopo due sconfitte pesanti soprattutto la seconda contro la Juve e trova i tre punti e cerca di ripartire anche in questo 2022 che dire ragazzi la partita è stata una partita molto complicata per la Roma Mourinho ha dovuto cambiare modulo 4-2-3-1 visto le assenze contemporanee di Smalling per infortunio Ibanez per squalifica e anche lo stesso Cristante insomma in squalifica quindi ha dovuto mettere una difesa a 4 con Mancini con Bulla, Vigna e Maitles Niles sulle fasce esordio di Sergio Oliveira con Veretù in mezzo al campo poi Zagnolo, Michi Tarina Fena Young dietro Abramo è stata una partita sapevamo complicata perché anche Mourinho in conferenza stampa ieri l'aveva detto che a livello psicologico era difficile ripartire dopo la sconfitta con la Juve avevamo delle defezioni dietro incontravamo un Cagliari che veniva comunque da due vittorie consecutive e il Cagliari negli ultimi anni è sempre stata una partita veramente ostica per la Roma e anche questa sera lo è stata però però siamo riusciti a portare a casa questi tre punti ci sono delle cose sia positive che negative che adesso parliamo la partita ragazzi la potevamo benissimo vincere con 4-5 gol di scarto questa sera il problema è che davanti lì davanti stasera abbiamo fatto veramente poco non siamo stati concreti, non siamo stati decisi non abbiamo sfruttato minimamente le numerose ripartenze che abbiamo creato questa sera ha visto un Abram molto confusionario molto meno dinamico del solito meno nel gioco ha cercato insomma di darsi da fare però questa sera il nostro Tami Abram non ha fatto una bella partita lo stesso si può dire di Zagnolo ragazzi Zagnolo è chiaro che bisogna ancora avere un po' di pazienza perché due anni di inattività sono tanti quindi il fisico è cambiato probabilmente lui è anche un po' di timore nel fare delle cose che prima faceva con naturalezza oggi anche in quell'occasione del primo tempo il contropiede poteva fare di meglio ha fatto soltanto un'azione nel secondo tempo solitaria che però ha tirato fuori non è stato sicuramente il miglior Zagnolo Afena Young che continua ad essere ridolare ha fatto la sua annesta partita è l'unico forse che veramente ci ha provato proprio in tutti i sensi chiamando la profondità mettendo palle al centro cercando la conclusione anche se è stato poco concreto lo stesso si può dire di Mkhitaryan forse un po' meglio nel secondo tempo dove ha cercato comunque di dare delle palle importanti ai compagni dove non l'hanno sfruttato però anche lui sinceramente poco concreto e poco deciso sottoporta il centrocampo c'è stato l'esordio di Sergio Oliveira che ha fatto una buona partita si vede ragazzi che il giocatore è valido che è tecnicamente valido che ha dato più geometrie che ha dato più equilibrio al centrocampo chiaramente deve essere aiutato da Veretù in un centrocampo a due perché stasera Veretù a me non è sembrato ancora il Veretù dei tempi migliori questo giocatore ultimamente ha avuto un'involuzione un po' troppo negativa deve anche lui rendersi conto che deve dare di più perché in un centrocampo a due nel 4-2-3-1 Oliveira non è un fulmine di guerra per cui serve che Veretù corra di più e copri di più gli spazi dietro ragazzi devo dire stasera secondo me il migliore in campo forse sarò esagerato ma secondo me il migliore in campo di questa sera è stato Kumbulla che Kumbulla ha fatto una buonissima partita questa sera perché chiaramente ragazzi quando sentiamo parlare di Kumbulla tutti rabbrividiamo dobbiamo anche dare un po' di fiducia a sto ragazzo stasera è stato il migliore in campo secondo me perché comunque dietro non ha sbagliato nulla non ha sbagliato nulla neanche Madeline, Niles e Vigna sulle fasce sono stati attenti, sono stati comunque hanno cercato di spingere un pochettino sulle fasce hanno coperto bene, hanno fatto una discreta partita Mancini ragazzi io non lo sopporto perché anche stasera è stato uno dei peggiori perché si prende sempre la solita munizione a cazzo e nell'unica azione veramente pericolosa del Cagliari è lui che si perde Joao Petro e dobbiamo ringraziare Santo Rui Patricio che con quella parata ci ha evitato veramente di pareggiare una partita che la Roma ripeto pur non giocando un grandissimo calcio stasera avrebbe potuto benissimo vincere 4-5-0 ci siamo mangiati 7-8 ripartenze incredibili 2-3 addirittura in soprattutto uno meglio dove non siamo riusciti assolutamente a tirare in porta come si deve a essere più decisi, più cattivi così non va ragazzi così non va perché poi queste partite abbiamo visto abbiamo rischiato di pareggiare a 5 minuti dalla fine con quella traversa presa da Joao Petro e questo ragazzi non deve succedere è chiaro che la squadra psicologicamente doveva un attimino riprendersi dalla partita con la Juve troppo confusionari, troppo indecisi da farsi troppo incapunirsi su azioni solitarie tipo Abram e anche Zagnolo troppa poca concretezza poca concretezza e poca lucidità oggi però ci sono anche delle note positive insomma i nuovi arrivati Maidel Niles e Oliveira sembrano ottimi giocatori la difesa comunque non ha preso gol per cui già questo dopo averne presi 7 in due partite è già qualcosa Oliveira si sta inserendo bene Niles si sta inserendo bene è chiaro ragazzi che la squadra deve cambiare atteggiamento Pellegrini si è infortunato nel riscaldamento speriamo che non sia nulla di grave Lorenzo quest'anno ha dimostrato insomma di essere uno dei pochi valori aggiunti di questa squadra quindi speriamo che possa rientrare più presto e che non sia un lungo stop dobbiamo ringraziare ripeto Santo Patricio perché se quella palla entra a 5 minuti alla fine riusciamo anche a pareggiare questa partita che potevamo vincere con più gol di scarto ragazzi abbiamo certi giocatori che devono mettere in testa di dare di più in campo e di giocare per la squadra mi riferisco a Veretù mi riferisco a Zagnolo Abra deve essere più concreto Michele deve trovare la lucidità dei tempi migliori io ragazzi spero che Mancini veramente è ottuso quel giocatore io non lo sopporto più ragazzi non lo sopporto più speriamo che Smalling rientri presto perché Mancini mi urta veramente come giocatore comunque siamo ripartiti ragazzi era importante cogliere i tre punti era importante comunque rimanere accolpata nella zona di Europa League, Conference League vediamo se il mercato ci porterà a qualcosa ci portiamo a casa questa vittoria sofferta con una Roma che non ha forse dato una prestazione chissà quanto eccellente però ragazzi i tempi sono questi era importante ripartire e portiamoci a casa questi tre punti fatemi sapere cosa ne pensate ragazzi iscrivetevi al canale tanti like e ci sentiamo presto